Sono a Lutrano di Fontanelle con gli amici del Comitato che vogliono bloccare quest'opera che viene fatta in un sito di importanza comunitaria della rete Natura 2000, ovvero un percorso che viene chiamato naturalistico, ciclo pedonale sarebbe, un sentiero, che in realtà tradotto in pratica vuol dire togliere il manto erboso dell'argine di questo fiume, del Monticano, per sostituirlo con un manufatto di cemento. Questa sicuramente non pare essere un'opera eco-compatibile e proprio per questo ho voluto venire qui a fare un sopaluogo con gli amici del Comitato anche per capire le azioni che posso fare sotto un punto di vista istituzionale per informare anche la Commissione Europea di quello che succede all'interno di un sito della rete Natura 2000.